Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani in questo video vedremo come richiesto da voi gli organi collegiali e ovviamente gli organi collegiali inerenti alla scuola tutto questo perché mi vengono chiesti continui consigli sulla prova orale del concorso sia ordinario che straordinario bis e quindi anche consigli sulle richieste che potrebbero essere fatte e ovviamente sulle risposte che possono essere date a tal proposito oggi affronteremo la questione relativa agli organi collegiali ossia dove il potere non è individuale ma viene dato a un organo di collegio quindi a una plurità di individui ossia una plurità di individui che partecipando insieme contribuiscono agli atti di ufficio alle delibere di questi ordini collegiali sicuramente sono organi collegiali il consiglio di classe il comitato degli studenti il consiglio di istituto il collegio dei docenti e allora cominciamo ad approfondire già questi quattro organi collegiali adesso mi limito alla descrizione dei consigli di classe una descrizione circoscritta alla scuola secondaria di primo e di secondo grado nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe è costituito da tutti gli insegnanti della classe più quattro rappresentanti dei genitori mentre per quanto riguarda il consiglio di classe della scuola secondaria di secondo grado vi sono tutti gli insegnanti di classe due rappresentanti studenti di classe due rappresentanti genitori della classe il consiglio di classe ovviamente si riunisce per tanti motivi che sono all'ordine del giorno della convocazione del consiglio di classe essi possono essere relativi all'adozione di libri di test possono essere dei consigli di classe ordinari o straordinari ad esempio in merito a una nota, a una sospensione molto gravi e quindi il consiglio di classe si riunisce per valutare insomma come procedere il consiglio di istituto è formato da docenti, da studenti, da famiglie e anche da collaboratori della scuola viene eletto ogni tre anni solitamente il consiglio di istituto è formato tra i 15 e i 19 componenti il comitato studentesco è costituito da tutti i rappresentanti di classe come nei decreti legge 13 e 14 della legge 1994 il comitato studentesco ha anche funzioni legislative quali per esempio l'organizzazione dell'assemblea studentesca e anche il fatto ad esempio di monitorare che essa avvenga secondo insomma principi democratici il comitato studentesco può valutare anche proposte da elargire poi al consiglio di istituto il collegio docenti come ben sapete è formato da tutti gli insegnanti e viene presieduto dal dirigente scolastico ad esempio adesso vi faccio una domanda che può interessare ovviamente tutti gli insegnanti ma soprattutto quelli insomma che stanno frequentando la specializzazione del TFA sostegno oppure si stanno preparando per il concorso il GLO quindi il gruppo di lavoro operativo che si riunisce in merito insomma all'alunno con disabilità avente la 104 è o no un organo collegiale? in un primo momento nel 2020 si pensò insomma di inserire di dare il valore di organo collegiale al GLO però adesso in realtà la risposta è no perché la pubblica istruzione decise quando poi fu stabilito furono stabiliti i compiti e i doveri del GLO decise che era semplicemente un gruppo di lavoro bene io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona continuazione di giornata un caro saluto da Francesco Samani grazie a tutti